Figlia del musicista Franco Ceccarelli degli Equipo 84 e di Sandra von Glasersfeld. Scrittrice figlia del filosofo Ernst von Glasersfeld. Debutta a 16 anni nel film di Giuseppe Bertolucci Segreti segreti del 1984. Dove interpreta la figlia di Stefania Sandrelli. Poi frequenta l'Accademia di Belle Arti e lavora per qualche tempo come illustratrice. Nella pubblicità e nella moda. Dopo diversi anni si avvicina di nuovo alla recitazione. E nel 1998, torna a recitare in tre storie. Un piccolo film per la reggia di Pier Giorgio Gay e Roberto San Pietro. Dove interpreta tre tipologie di donne diverse. Rivelandosi attrice di grande intensità e temperamento. Nel 2001, viene scelta da Ermanno Olmi per il mestiere delle armi. Nello stesso anno, lavora con Cristina Comencini nell'Il più bel giorno della mia vita. Film di grande successo, per il quale vince, assieme alle altre attrici principali del film. Il nastro d'argento alla migliore attrice non protagonista. La consacrazione e i riconoscimenti più importanti le giungono dal film di Giuseppe Piccioni Luce. Dei miei occhi, per il quale vince la Coppa Volpi al Festival di Venezia e viene nominata al David di Donatello e, al Globo d'Oro. Ancora con Piccioni nel 2004 La vita che vorrei. Altro film di grande successo di pubblico e critica. Per il quale viene nominata al David di Donatello e all'European Film Award come migliore attrice. Protagonista. Nel 2003 lo stesso regista le aveva dedicato il documentario Sandra. Ritratto confidenziale. Nel 2006 gira Klimt e la fiction Il destino di un principe. È nel cast del film Il resto della notte. 2008. Di Francesco Munzi. Nel 2009 è protagonista di Il richiamo. Di Stefano Pasetto. Nel quale si distingue per una forte scena di sesso tra lei e Francesca in Audi. Negli ultimi anni, tranne qualche piccolo ruolo al cinema nella variabile umana di Bruno Oliviero e l'intrepido di Gianni Amelio, si dedica a miniserie televisive. L'ultimo Papa Re, Romeo e Giulietta e Il Bosco. Nel 2016 è protagonista del cortometraggio Elena di Nicola Sorcinelli dove interpreta una redente s.s. dell'esercito del Führer.